Lui è Roberto, un ragazzo di 20 anni con disturbi dello spettro autistico che gestisce una piccola edicola via Piave nel quartiere napoletano di Soccavo. Da meno di un mese Roberto con il supporto dei suoi genitori ha iniziato un nuovo lavoro che gli permette di migliorare il percorso di autonomia iniziato già qualche anno fa con la sua famiglia. Al suo fianco ci sono sempre Giancarlo e tutti i genitori coraggiosi che hanno voluto intraprendere fortemente questa nuova avventura per aiutare Roberto nel suo percorso di crescita. È una realtà che gli permette di farsi conoscere e di ampliare quelli che sono gli obiettivi, cioè la relazione, il poter gestire gli euro e quindi fare acquisti e avere una sua piccola realtà. Non ultimo il fatto di avere uno scopo al mattino, quindi un posto di lavoro che per quelli come lui, come tanti altri ragazzi è difficile. Sul vetro dell'edicola ci sono due fogli a quattro esposti in bella vista che chiedono di avere pazienza perché dall'altra parte c'è una persona speciale che gli sta servendo. Mentre sull'altro foglio è riportato il dialogo di routine che un cliente deve instaurare con lui per agevolargli il lavoro, riuscendo a interagire con Roberto nonostante l'autismo. Lui ha la facoltà e la capacità di scegliere e quindi gli è stato proposto. Proprio per questo motivo lui viene volentieri ogni mattino, è ligio al dovere, gli piace e quindi ci sono sempre più persone che hanno accolto quello che è il nostro invito, cioè quello di darci una mano, dargli quanto più possibile autonomia nella relazione. Una storia che sembra avere dell'incredibile ma che dovrebbe essere normalità per permettere ai ragazzi speciali come Roberto di intraprendere il proprio percorso di autonomia. A noi fa piacere questi eventi che si stanno verificando non per la pubblicità per Roberto piuttosto che per l'edicola ma per il messaggio che noi intendiamo trasmettere che è quello che l'opportunità penso non debba essere negata a nessuno.